ciao a tutti qualcuno dopo aver visto il mio vecchio video il taglio dei dread risalente al 2012 chi l'ha visto lo ricorderà mi tagliavo i miei storici dread che riporto ancora qui così per ricordo e appunto qualcuno mi ha chiesto e come sono adesso i tuoi capelli visto che avevo fatto un buco dietro si erano tagliati proprio malissimo eccetera per cui ho pensato di fare questo video per farvi vedere lo stato dei miei capelli al momento quindi sono quasi quattro anni dopo che ve ne pare sono cresciuti bene in quasi quattro anni e ne ho approfittato per registrare questo video con la crocco fra la gopro e il microfono binaurale che come faccio a farvelo vedere vi faccio vedere una foto la situazione con cui sto registrando è questa non è male va tutto sommato il microfono binaurale dovreste saperlo è quello che se vi mettete la cuffia avete la sensazione anche anche dietro che qualcuno viene a parlare dietro anzi adesso apro il balcone così entrano un po di suoni dal dietro se vi incuriosisce questa cosa del binaurale beh c'è il mio canale dove ci sono tutti i video più di 100 realizzate in questo modo cosa dire erano meglio prima oppure adesso prima erano così a me mi semblano più carini questi poi dite voi ciao grazie a tutti Grazie.